Allora Daria, noi rendici da quattro vittorie consecutive, scendici da cinque, che partite ti aspetti domenica? Beh, è una partita complessa, andiamo a giocare in casa loro, è uno squadrone che punta a vincere lo scudetto, quindi è una partita complicata, lo è stata anche qui da noi, quindi è una partita che affrontiamo a viso aperto senza niente da perdere. Secondo te quale sarà la chiave per riuscire a portare a casa almeno un punto? Beh, sicuramente l'intensità che mettiamo in tutte le azioni, dovremo lottare per guadagnarci dei punti perché non ci regaleranno molto, l'intensità in difesa e l'ordine a muro, tutta la correlazione battuta a muro difesa, secondo me sarà l'arma che ci potrà portare qualche gioia. Rispetto alla prova con Trento, che era la prima dopo un mese di stop, quali progressi ti aspetti? Ma, Trento diciamo che è stata una partita che non ci aspettavamo, nel senso che loro sono partite molto molto cariche, quello che dobbiamo migliorare è l'approccio alla partita, contro Trento non è stato un ottimo approccio, infatti il primo set è andato via un po' troppo facile per loro, quindi dobbiamo ritornare ad avere l'approccio che avevamo prima e iniziare fin da subito a spingere.